Umberto, due, grazie. Di quattro, due, tre, grazie. Fizzo, due, tre, quattro. Sene, chiero, cinque. Regineo, due, sei. Piccolo, due, c'è. Piccolo, chiero, otto, grazie. Corriso, rubino, nove. Petattina, donato, dietro. Bonattino, averno, unisci. Cardinale, alzando, dodici. Capriola, Mario, tredici. Capitano, quattro. Sepe, Gaetano, quindici. Piccolo, Giovanni, sei. Lettieri, Piccolo, diciassette. Marisi, Antonio, diciassette. Io non ho vedo la trovata, alle 6 metri di migliaia del solubrammo, quindi cerchiamo che mi avessi. Io voglio il Capitano, lento, 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 lento. A mezzo ce ne devono essere un problema. Aiutiamoci a rinforzare. Imbroccando un po' di te. Ah, vieni un po' di mezzo. Ma c'è, va freddo, va freddo, va freddo. Quella? Che dovevi dire tu, prima della partita? Perché tu? Perché tu? Piero, ascolta, dici che così mi hanno detto, ma io non ci credo, perché conosco te, quindi non ho problemi. Però, stagli vicino, fanno sento il piatto. Piero, c'entrava l'altro. Quello che c'hai tu, fagli sentire il piatto addosso, fagli sentire che tu sei lì presente, e non tiene paura di niente. Sa, ci non tiene paura di niente, quindi, però, lui lo deve capire. Lui. Staccato, occhio al vento, occhio al vento, ragazzi. A mezzo, donato. Fermi l'aspimo, fermi l'aspimo. Ci abbiamo il tempo. Allora, davanti, gioco Rubino. Se, sempre, accedere. E donato, eh, l'appoggio. Eh? Accedro campo. Li sappiamo. Pino, Saveri, Tonio, e Michino. Qua l'ha bevuto. Vieto, la solita. Eh, Luca. Mi scorda. Da te voglio una prestazione, che non hai mai fatto. Non ci ferro, eh? Ma, qua, occhio al vento, occhio al difeso. Eh, ecco il bomber. Sempre do calore. Pino, mi raccomando, sei sorvegliato speciale, mi raccomando, se ti avete portato la palla, ti chiamo, eh? Ti chiamo, non faccio così pochi gesti, eh? Sentite, no. Io da fuori vedo. Quindi, se io vedi che tu porti palla, ti chiamo. Non dite che palla, non è dentro. Romario, ma è più della figura. Tu e i compagni, dando la parola di sopra, no, vicino. Un bambino. Un bambino. Donato. Conventi. Tranquillo. Soprattutto. Tranquillo. Eh, stagli vicino. Non venire, non venire, pure tu al centro campo. Ah, ah, stai, lui sta davanti. E tu devi, e tu devi farlo scontato a più. Dai, dai, tu devi farlo scontato a più. A destra e a destra e a destra e poi tornare indietro. Fai quello che vuoi. Ti appoggiate. Ragazzi, mi raccomando, vieni, 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 volevo salutare la mia panza, ti mando tanti baci, Ciao. Palla a te. Tu, nonno, la pace da capitano, tu merda, tu abitai bene. Ma tu ti caccio? Ma tu ti caccio? Ma tu, ti caccio? preparati, a morire. Ciao. Ciao. Ma vedete tu, la mia. Che caccia? Guarda qua. Guarda qua. Sono stanzione, che... Perché è rizzo? Eh, stai rizzo. Guarda, 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 a lui. Che? È rossa. È rossa. È una maglietta qua. È troppo, è troppo. Sopra. Tutto. La mia. È rinchiata qua. Io devo abbassarsi. Non c'è. Allora, beh, non ci senti, chiamolo... Sì. E' un po' di... Ma io... l'ho già pieno, non c'è finito lo fuoco. Eh, non c'è. Non c'è, ma... Non c'è, non c'è, ma c'è. dai da più da Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.